ciao a tutti ragazzi sono il gol tagger e noi siamo in questo nuovo video avete sicuramente visto tutti quanti la prima parte se non l'avete vista vedete tanto è un gioco che non devi per forza sapere la storia però vedetevi la prima parte anzi no non fatelo perché sapete sicuramente se l'avete vista che l'audio è andato a schifo e si sentiva pochissima la mia voce ed è per questo che sto gridando perché non ho il tavolo tipo il microfono basta delle parolacce tip fortuna che lei bippa questa è la camera e non sbaglio questa è la camera e allora si sto gridando quindi adesso sicuramente arriverà mia madre a dire no non lo ha lei sai che tanto non ti si sente nel video perché stai parlando solamente la bassa voce che sarebbe stato troppo divertente se tipo tu le dicevi e già così lo bippava tipo sono le 1 del mattino ah sì giusto la vuoi gridare perché stanno non mi si sente nel video quando è che mi regalano il microfono quando farei cent'anni è un Minions ti prego dov'è la marionetta del cavolo a me sembra un Minions non una marionetta ah è la marionetta del Minions eh ma fa ai 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 quella marionetta ma io cosa facesse barabaraba banana no non fa barabararaba no no sembra ok non c'è più la marionetta lasciami il telefono ma mi scontri la musica mi stai ascoltando? non stavo ascoltando questa era su youtube questo è paparotti ma che paparotti ma che sta di non grida cioè non parlare nel mio video perché perché non lo so perché perché la musica sicuro che stanno cos'è? si ma va su youtube che sta ascoltando proprio la musica degli Ancias proprio no copyright no marionetta no vai via no la senti? ah ok la colpita a che parte siamo? non lo so non lo so no Giada ti prego è difficilissimo colpire il naso di quella cavolo di marionetta chifosa ancora tipi tipi ok ah ah sembra che scorre già 3 delle mattine basta Mario ti fa qualcosa? si fa wow però non fa paura no e allora non ti fa prendere nulla eh ma poi non c'è solo la marionetta c'è anche il tipo non cioè non cantare più che altro e poi allora se io parlo quest'altra testa di voce non mi si sente nel video mi si sente proprio che io sto parlando una bassissima voce quindi devo gridare c'è 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 allora ma in questi giochi com'è che posso intrattenere? non lo so devo dove devo drammatizzare una cosa drammatizza? dovevi diventare favij palla a tutti ragazzi no ok non sono bravo perchè lui è proprio spara a parte della pipa palla tu vabbè mi hai spuntato in faccia ma che stai guardando il computer no hai fatto palla guarda guarda dopo mi danno il copyright che canzone mette Giada? mi danno il copyright e poi rubo di no che canzone mette Giada? che peccato ti ha colpito il nato ma è strafacile se Giada lo so non cantare no marionetta no guarda non pensa che sia facile colpire il nato della marionetta perchè si può mettere tanto una del tuo maschio che cari mas no ma sei scemo che vado a prendere il favore io non me ne stavo guardando ma io accendo la luce sto qua si mette a gridare perchè ha preso paura lui e mi fa prendere paura a me si chiama ma 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 sta dicendo anche le parolacce ma tu non le fai sentire ma vai che le bippano adesso alle 5 del mattino ma allora dici che faccio due notti già ora faccio una notte solo fanno due perchè sennò è troppo corto ma a me sembra che tipo dura 7 minuti totale perchè prima avevo fatto un video di 7 minuti quindi ma che ti guardi i musicali sullo telefono come puoi sapere che è musicali? ho visto ah e io non ho nemmeno musicali quindi lei giustamente mi prende il telefono basso youtube per vedere i musicali e per me vienci back tipo di papà si rap ok ragazzi dopo mi danno il copyright Clio e questa cosa mi danno veramente il copyright Clio eh ok si non manca a me però no mi sta prendendo occhio se senti gridare è l'animatronics no sono arrivate le 6 prima che lo fomentavo dai mi hanno arrivato anche così a fomentarlo dimmi che non cade l'animatronics lo so a zoba ho finito la notte ma tu son deficiente a quanti minuti di registrazione siamo ah Geli guarda un attimo questa musica 6 minuti di registrazione ogni ok facciaci 6 minuti guarda un attimo questa musica un secondo guardalo pugno no ok adesso non mi to questo qua non ha il tondino non può perchè non è nemmeno la stessa persona guarda e allora si adesso di nuovo tondino non c'è il tondino aspetta è partito da un altro infatti non c'era il tondino se c'era non vale due volte e non vale due volte la settimana il tondino con mesi elettronici lo dice wikipay da wikipay da ragione gialla fammi sentire queste adorate parolacce al massimo del volume fa studiare parolacce e 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 non lo non vuoi diventare tuo amico se tu vuoi diventare mio amico è bello che prima è andato a sbattere quello altro perchè devi sapere che questo animatronics non ci vede bene infatti ha gli occhiali le va sbattere dappertutto e dopo dici anche le parolacce lo puoi essere andato a sbattere Metti bello figo Metti bello figo Però non farò Ho detto metti No, stupido Eh, sto gioco è troppo facile ragazzi Chi è? E' solo per far sentire la te No, mi danno il copyright Ma appunto facci la 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 Sì ma se si Ti ho detto che se mi vende il copyright E' solo per sta roba Anche se non si sentirà mai nella vita Io ti ucciso Ti piace? Sì Mi scrivere Bello figo Metti bello figo Le recessioni No, vabbè E' tipo 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 Non c'è il panico quando vende la marionetta Perché è impossibile da colpire Mi spegneresti la tv No Mi spegneresti la tv No, 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 no Ciccio Ma sei Dai, hai attaccato al computer Per far sentire Capito, fa un po' mi uccideva la marionetta Ma perché è stupido Perché io uccendo la luce Fai Io faccio Addio Non posso ascoltare la musica Se no Non so cosa dire perché c'ho la musica nelle orecchie Non so manco se sto gridando Sto gridando Ah, bene Perfetto Che bello La cosa dei youtuber E' che tutti i vicini di casa ti odiano perché gridi No, devi sentire il ritornello Non me ne frega il ritornello Sto facendo un video No, ok Sei a ritornello Sì, ma a me piacciono gli ncs Dove sei? O anche i bts Sei a free? Sei a free? Sei a free? Sei a free? Sì Sei a free? Sei a free? Sì, ma a free non ho Free Don't learn me I can't I can't E lei ha scordato la po' E poi sto ventilatore ha se li problemi ragazzi Cioè Non l'ho ventilatore, non schifo Ma posso dire che in queste noti venne solo la marionetta Ma il tipo viene Bevuto due volte a me Ragazzi Guarda che finisce la notte Devo concludere anche il video Saranno da 12 minuti Ecco che rimette la musica Sei a free? Sei a free? Sì Eh, ma cosa cavolo? Io non voglio essere a free Sono a la notte free Guarda, night free Oh, te la scordi un po' di più, dai No, ho dimenticato di dire il titolo del gioco Perché Ma è meglio così Perché non lo so pronunciare Dove sei? Oh, god Dai che sono le five Le five No, no, no Il tipo Chi è? No, 11 di energia Arrivate Arrivate Sei Arrivate Ma che arrivano le sei? No, dai Devono essere le sei Aiuto Sì Le sei Le sei Le sei Madonna Bussate di energia Allora Che cosa vuol dire? Dopo le sei E se tu finisci tutta l'energia Muori No, devo chiudere il video Gianni E quindi il video conclude Eh, sì Magari se Ma che cosa stai scusando? Me lo so E quindi il video finisce qui Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti